ecco l'ex zuccheripicio di Avezzano ammiriamo questo splendido panorama anche qua sotto in l'industriale guardiamo ecco qua a Veo c'è bella passeggiata e qui vicino si costeggia sul lato est c'è la ferrovia in disuso che portava la cartiera portava qui di fronte ecco si continua a vedere la ex zuccherificio adesso è stata messa vendita l'altra l'hanno comperata qui c'è il pezzo il zuccherificio andiamo anche qui ammiriamo questa c'ha più di cento anni guarda quanto è bella veramente è bello 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 è in disuso però è stata messa la vendita all'asta ma questa data da lavori operai e l'agricoltura hanno versato 15 milioni di quintali di barbabietole è in disuso da oltre trent'anni se non erro continuo il mio tragetto eccolo qua quella va beh mi fermo qua buongiorno